piazza redi la questura punisce minorenni col daspo urbano documenti falsi per riavere beni sequestrati denunciato un imprenditore vaccini partite nelle marche le prenotazioni per gli over 40 palazzo ricci e pedrotti diventeranno la cittadella della musica buona serata e ben ritrovati al nostro telegiornale rossini news questa sera apriamo l'edizione partendo dalla cronaca perché negli ultimi periodi vi abbiamo parlato spesso di bande di ragazzini intente a ripetuti atti vandalici ed episodi di violenza soprattutto in piazza redi ecco alcuni di questi ragazzi sono stati puniti ora dal cosiddetto daspo urbano un provvedimento che non ha precedenti nel nostro territorio e che la questura ha applicato anche ad altri atti delinquenziali avvenuti nell'area del parco miralfiore per la prima volta in provincia di peso urbino la questura applica la misura repressiva del cosiddetto daspo urbano ovvero divieto di accesso a determinate aree della città e obbligo di firma periodico in questura per la prima volta viene dunque applicato il cosiddetto daspo willy un provvedimento nato a ruota della cassa di risonanza nazionale prodotta dalla barbara uccisione di willy monteiro si tratta di una sanzione che si applica dai 14 anni in su e che è stata combinata a componenti della cosiddetta gang di piazzaredi una banda di ragazzini resasi protagonista di ripetuti atti di vandalismo aggressioni risse e intimidazioni un provvedimento che colpirà due sedicenni e un diciottenne al quale invece è stato notificato un avviso orale del questore abbiamo deciso di intervenire con questi daspo willy che appunto sono stati da poco introdotti dal decreto legislativo 2020 sono in occasione diciamo nominati così in ricordo del povero willy monteiro e che riguardano il divieto di accesso ad aree urbane a persone anche ultra 14 anni quindi anche minorenni che abbiano commesso anche solo già un fatto di reato o anche più denunce oppure un arresto un fermo purché convalidati dall'autorità giudiziaria e in diciamo nei pressi di locali pubblici locali aperti al pubblico o comunque determinate aree urbane centri commerciali e quindi per due ragazzi minorenni di 16 anni che partecipavano anzi forse erano un po' i fari di questa banda giovanile che scorazzava per piazza redi una volta che abbiamo notato che gli episodi si stavano un attimo incentivando abbiamo deciso di intervenire con questi due dacur cosiddetti daspo urbani. Il provvedimento dell'avviso orale è stato notificato anche a un 52enne che nei giorni scorsi si è reso protagonista di atti osceni in luogo pubblico l'ultimo dei quali di fronte al liceo artistico mengaroni. Per quanto riguarda invece i ragazzi colpiti da daspo urbano questi non potranno accedere a tutta l'area di piazza redi compresi i negozi ma in totale sono sei daspo urbano presentati oggi dalla questura altri quattro sono piombati su altre tante persone gravitanti attorno all'area del miralfiore e dell'ipercop. Diciamo che lì prima c'era una situazione sicuramente di disagio con persone anche questi tutti con precedenti reati contro la persona contro il patrimonio manifesto ubriachezza però siamo intervenuti una volta che invece l'ufficio prevenzione generale del soccorso pubblico è intervenuto su richiesta dei cittadini per una rissa gravata con bastoni. Allora lì abbiamo deciso di intervenire abbiamo messo quattro daspo urbani a queste persone quindi anche loro avranno il debito di accesso nel centro commerciale, negli esercizi dentro il centro commerciale, nei parcheggi e nelle aree di mitrofe. La violazione è punita con l'arresto da sei mesi a due anni e con una multa fino a 20 mila euro quindi diciamo abbastanza cogente ed è immediatamente attiva. Pugno duro con un provvedimento che ha la durata di cinque anni ma che può essere ridotto in corso d'opera, un atto repressivo ma che vuole trasmettere una valenza educativa. E noi speriamo specialmente nei confronti dei ragazzi di piazzeredi perché lì purtroppo ci troviamo davanti a un insieme di ragazzini veramente eterogenei ma veramente piccoli. Uno di questi ragazzini addirittura ha dieci anni e molti hanno meno di quattordici anni e quindi speriamo veramente che questi DASPO, l'avviso orale fatto al maggiorenne del gruppo possa servire da monito non solo per le stesse persone ma anche per gli altri componenti del gruppo che anche le famiglie capiscano che forse hanno questi ragazzi hanno bisogno di essere maggiormente seguiti, che hanno bisogno di frequentare forse altre persone e che è bene che capiscano che i diritti e le libertà devono viaggiare insieme. Se sono separati non sono diritti e libertà di nessuno. Continuiamo a parlare di cronaca ma in questo caso ci spostiamo nell'entroterra per un'operazione della guardia di finanza di Urbino. È stato infatti denunciato un evasore fiscale che ha cercato di riprendersi denaro, auto e moto sequestrati presentando però dei documenti falsi. Dalla padella alla brace, dall'evasione fiscale alla presentazione di documenti falsi per ottenere il dissequestro dei beni confiscati. È stata questa la parabola di illeciti in cui è incappato un imprenditore di 48 anni di Fermignano denunciato dalla guardia di finanza di Urbino. Un fermignanese operante nel settore dell'abbigliamento sul quale la procura Urbinate, assieme alle fiamme gialle feltresche, aveva approfondito una verifica fiscale che ha fatto emergere una consistente evasione tributaria che ha superato le soglie di punibilità penale. Il GIP del Tribunale di Urbino ha così disposto il sequestro preventivo strumentale di beni per 1.860.000 euro, comprese auto e moto di grossa cilindrata. Un ammontare di beni sequestrati che corrispondeva al profitto dei reati tributari contestati e alle imposte evase di conseguenza. L'imprenditore però ha subito cercato di ottenere il dissequestro delle sue proprietà presentando un'istanza corredata da una missiva dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale l'amministrazione finanziaria avrebbe accolto una sua richiesta di rateizzazione e la quietanza di pagamento della prima rata del piano concordata con l'ufficio. I riscontri effettuati dalla procura hanno però fatto emergere dubbi sul fatto che i documenti non fossero veritieri. Le verifiche incrociate con l'Agenzia delle Entrate hanno infatti accertato che l'imprenditore aveva effettivamente presentato la richiesta ma che questa però non fosse stata accolta oltre a delle incongruenze sulle annualità delle rateizzazioni presentate. Dunque l'imprenditore si è visto negare il dissequestro ed è stato pure denunciato dalla Guardia di Finanza di Urbino alla procura che ha dunque formulato la richiesta di rinvio a giudizio per l'ipotesi di reato contestata. È partita a mezzogiorno di oggi la prenotazione per i vaccini anti-covid per i marchigiani compresi tra i 40 e 49 anni. Già migliaia le prenotazioni ricevute dal portale della regione Marche. Restando in tema di vaccini questa mattina nel punto vaccinale dell'ospedale di Muraglia si è creata una congestione di persone in fila per un malfunzionamento del sistema che ha creato un overbooking di prenotazioni al vaccino nello stesso orario. Cambia invece il punto vaccinale di Urbino. Vista la necessità di recuperare il pala Carneroli per la ripresa delle attività sportive. Da venerdì 21 maggio la popolazione Urbinate cambierà sede trasferendosi al bocciodromo di Viale Neruda. I prenotati di domani slitteranno automaticamente alla giornata di venerdì. E per fortuna resta basso il numero dei contagi nella regione Marche con un rapporto tamponi testati del 6,2%. Nello specifico sono 130 i casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore su 2082 nel percorso nuove diagnosi per un totale di 4063 tamponi processati. Continuano a calare i dati dei recovery oggi sono 260, cioè 20 in meno di ieri, con 44 pazienti in terapia intensiva. Un miglioramento palpabile all'ospedale San Salvatore di Pesaro dove sono stati chiusi due reparti di rianimazione. Ed ora cambiamo completamente argomento e parliamo di un recupero di edifici che amplierà anche l'offerta culturale della città di Pesaro. Palazzo Ricci e Palazzo Olivieri diventeranno infatti una sorta di cittadella della musica. E' questo l'ambizioso progetto e piano di investimento del Comune di Pesaro che ci viene illustrato dal Vice Sindaco Daniele Vimini. Ha bisogno di intervento, il Palazzo Comunale abbiamo pensato da tempo di destinarlo a cittadella della musica. Significa che oltre al Giardino Ristortolani che abbiamo nominato ma che ovviamente ha bisogno di un'infrastruttura per essere un giardino vero e proprio della musica che verrà appunto trasformato in una duplice situazione sia di punto lettura, relax per gli studenti, per i cittadini all'inizio del giardino ma anche in un auditorium da 200 posti nella parte che guarda la limonaia verso via Giordani, quindi un luogo della musica in più che si va a realizzare. Lì a fianco la scala del conservatorio, quella che attualmente non è agibile che ci ha imposto da qualche mese la chiusura dell'auditorium Pedrotti, verrà ricostruita con anche la possibilità di accedere all'ultimo piano della galleria dell'auditorium Pedrotti nel Palazzo Olivieri, quindi anche qui non solo poter riaprire l'auditorium Pedrotti che è una delle sale dei concerti più importanti d'Europa ma poterlo fare con una capienza che in realtà non era più disponibile da anni perché la galleria per sempre per motivi di uscita di sicurezza non era agibile, quindi una miglioria totale e quindi un nuovo luogo della musica, in questo caso al coperto che torna a funzionare. Venendo al palazzo stesso, di Palazzo Ricci, il finanziamento complessivo dell'intervento, a parte i 400 mila euro della scala esterna che si vanno ad aggiungere all'importante lavoro che i Rotari e i tanti pesaresi hanno avviato con il crowdfunding per la progettazione dell'anno scorso e dicevo sul corpo principale di Palazzo Ricci oltre al giardino abbiamo complessivamente 2 milioni e 300 mila euro di investimento per questo primo step che consentirà sostanzialmente il rifacimento del tetto che è una priorità ovviamente del palazzo e l'intervento al piano terra che riguarderà la bibliomediateca del conservatorio, quindi il conservatorio a Palazzo Livieri potrà liberare i propri locali dalla bibliomediateca e quindi utilizzarli per altre esigenze del conservatorio e la bibliomediateca verrà spostata, in realtà creata perché l'attuale non è la parte media e verrà realizzata appunto a Palazzo Ricci al piano terra e sarà appunto il luogo dove poter consultare i testi del conservatorio e della fondazione Rossidi. Lo stesso intervento al piano terra prevede anche delle salette tra cui quella che era la cappella al piano terra del palazzo che può diventare anche una sala concerti e audizioni da 40 posti. La parte che mancherà di tutto l'intervento invece è l'intervento che sarà necessario attorno ai 3 milioni di euro che stiamo cercando con altri bandi per realizzare le cosiddette residenze, quindi una sorta di foresteria sia per gli studenti che per artisti che verranno a lavorare a produrre a Pesaro e anche da parte del palazzo al piano primo, al piano secondo, destinare a laboratori musicali. Questa è la seconda parte che speriamo di riuscire a centrare nei finanziamenti entro l'anno per poter magari correre con una presentazione congiunta e magari fare anche una gara unica entro l'anno. Sicuramente entro l'anno verrà fatta la gara per consentire l'inizio dei lavori primavera prossima su tutta la parte che abbiamo descritto e quindi realisticamente essere pronti per la primavera del 2023. Il Comune di Pesaro annuncia un investimento di un milione e mezzo di euro in asfaltature di strade a grande percorrenza come via Solferino, strada del Monte Feltro e la statale 16, interventi che si effettueranno entro la fine dell'estate assieme ad analoghi interventi su tratti deformati di marciapiedi e piste ciclabili. Si rimette in moto il turismo e ad Urbino torna in funzione anche il trenino turistico Urbino Explorer che era fermo dallo scorso ottobre. Il mezzo dell'associazione Gioca Mondo ricomincerà dunque da domani ad accompagnare i visitatori sugli splendidi saliscendi della città feltresca. Emma Dante, indiscussa protagonista del teatro italiano degli ultimi anni, arriva domani a Pesaro dove dal 20 al 23 maggio sarà al Teatro Rossini per proporre Misericordia, una performance con la quale la regista siciliana porta sulla scena la tematica del silenzio delle donne. Da 15 anni l'azienda pesarese Idio Stampa invita ogni anno i fotografi del territorio ad un concorso di immagini che poi confluiranno sul calendario. Dopo un'edizione legata al tema pandemico, ora il concorso torna all'aria aperta per immortalare le bellezze paesaggistiche della nostra bella provincia. Vogliamo approfittare di far uscire fuori le persone, visto che adesso le hanno liberate, a scattare delle bellissime fotografie nel nostro territorio, in 12 luoghi che noi invitiamo a visitare e a realizzare delle fotografie. Le tappe fotografiche sono state scelte da Valentina Pierucci, la marchigiana, la bloggera Marchigiana in Viaggio e di conseguenza sono tutte del nostro territorio. Il concorso parte adesso, anche perché la stagione lo permette, e finisce il primo di ottobre, dove verranno raccolte tutte le fotografie che le persone hanno scattate in queste 12 tappe. Si può partecipare scattando anche solo una fotografia in una di queste tappe o due di queste tappe, oppure in tutte le tappe. Comunque per ogni tappa fotografica verrà comunque scelto un vincitore che andrà a finire il nostro calendario. La prima settimana verrà praticamente messa anche tutta la produzione di fotografie nel nostro pagina Facebook, dove le persone verranno invitate a mettere like e lì verrà scelto un vincitore dal pubblico. Mentre invece il resto verrà scelto da una giuria che andrà a comporre le 12 pagine del calendario. Ecco, quello che viene prodotto sono dei piccoli oggetti da collezione? Diciamo che ormai sono diventati dei cult, nel senso che molte persone, sia il formato che in qualche maniera permette anche una conservazione, perché comunque è un formato quadrato dove noi separiamo praticamente sempre la parte della fotografia dalla parte del mese e quindi di conseguenza la parte superiore può anche essere staccata e diventare un comodo quadretto da appendere in casa, visto che sono immagini davvero molto belle. I Deostampa e il suo calendario sono idee radicate negli anni, da 15 anni. Qual è la filosofia che ha innescato questo processo creativo? Penso che il compito di un'azienda non sia solo quello di creare profitto ai posti di lavoro, ma anche se possibile di ridare comunque un qualcosa al proprio territorio, specialmente in questo caso con delle iniziative culturali. Noi durante l'anno ne abbiamo tre, la prima è il concorso letterario, che quest'anno tra l'altro è arrivato a livello nazionale alla sua sesta edizione. Durante l'estate abbiamo la t-shirt, che è una maglietta affidata a un illustratore e nel periodo invernale appunto un calendario che ogni anno affidiamo ai fotomatori con un tema scelto così a caso. Dalla fotografia passiamo alla poesia. Gradara, Fiorenzuola di Focara e lo stesso Parco San Bartolo si uniscono in un festival di poesia dal titolo Parole di Mezzeria, che si terrà il 28, 29 e 30 maggio. Vediamo le interviste realizzate da Edoardo Orazzi. Questo progetto Parole di Mezzeria, che per anni ha valorizzato, portato turisti con una formula slow, culturale e di amore per il paesaggio e per le strade che lo collegano nei posti più belli dell'area interna della nostra provincia, rinasca e risorga dopo alcuni anni nella riviera di San Bartolo, questo territorio che abbiamo ereditato e che abbiamo la responsabilità di conservare, ma anche di valorizzare dal punto di vista turistico in maniera responsabile e di livello. È una manifestazione come questa che lega parole, parole scritte, un po' anche la poesia della parola scritta col gessetto sulla strada, ma anche il coinvolgimento di poeti, di artisti, di momenti teatrali veri e propri. Credo che sia il modo migliore, specialmente di questi tempi, per una politica di iniziative culturali all'aria aperta, in spazi aperti, quindi anche in situazioni antiche ma attuali per quello che riguarda i protocolli di sicurezza e anche in generale una tendenza naturale che la gente già l'anno scorso ha adottato, ritrovato nel cercare spazi aperti per la vacanza, per il relax e anche per vivere il proprio territorio. La strada di Mezzeria parte proprio da questa poetica che invade il territorio, la strada di Mezzeria che collega realmente Gradara con Fiorenzuola, quindi anche due canti dell'inferno, diventa un rotolo di carta sopra il quale scrivere, disegnare o dare libero sfogo alla propria creatività poetica da parte di tutti e chiunque può farlo, basta avere dei gessetti colorati che verranno forniti dall'organizzazione e insieme tornare a comunicare le nostre emozioni con il corpo e con le parole anche. Il programma si articola su un weekend venerdì, sabato e domenica dal 28 di maggio fino al 30 di maggio, ci sono tre momenti, uno a Fiorenzuola di Fucare il 28, il 29 qui a Gradara con un appuntamento alla Rocca di Gradara e il 30 direttamente sulla strada di Mezzeria che è il titolo dell'iniziativa e il momento clou di tutto l'evento. In pratica è una strada che viene chiusa al traffico e viene riservata ai poeti o all'espressività. Qualsiasi persona che arriva in questo tratto di strada avrà a disposizione dei gessi di dimensioni adeguate per poter scrivere i propri pensieri, le proprie poesie, il proprio messaggio su questo pezzo di strada. Quindi trasformiamo la strada in un foglio bianco per l'espressività delle persone. Naturalmente noi arricchiamo questa iniziativa del 30 con una serie di animazioni che avverranno lungo la strada e si chiuderà proprio la giornata con un concerto di Paci Dallò e Paolo Bragaglia che chiuderanno l'iniziativa. Il rapporto con la parola che ogni persona ha, un rapporto soprattutto intimo come accade nella poesia, permette poi di elaborare le proprie emozioni, i propri vissuti, quindi ha una funzione umana fondamentale ed è bello poter ripartire e consolidare questo tipo di discorso, quindi questo tipo di rapporto con la parola che è intimo ed è molto diverso da quello che oggi a volte il mercato tende a proporre. Per cui direi che è fondamentale. Quindi incontrarsi, incontrare diverse istituzioni su questo principio, a partire dai ragazzi perché poi queste iniziative entrano anche nelle scuole, credo che sia un messaggio di ripartenza veramente importante perché riparte da quello che se vogliamo è stato più colpito in questo lockdown, cioè il vissuto umano di ognuno di noi. Quindi direi che è il messaggio più bello che potevamo dare insieme. E concludiamo questa nostra carrellata di notizie a tema culturale parlando del marchigiano Mirko Paolini, ingegnere elettronico di Castelfidardo che una settimana fa è stato premiato al Festival Cinematografico dei David Di Donatello per i suoi effetti speciali nel film L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, un premio celebrato oggi nella sede della Regione Marche. È un bel talento in questo caso perché è il primo marchigiano che ha ricevuto il Davide Di Donatello, quindi veramente è un momento storico. L'edizione del Davide Di Donatello segnala la qualità della nostra produzione cinematografica, è il primo premio nazionale avere un marchigiano, Mirko Paolini, che ha conseguito poi in un settore particolare, quello degli effetti speciali, il premio insieme a altri certamente, ma c'è anche lui, significa che i giovani marchigiani si fanno valere e che quindi le radici producono sempre dei buoni frutti. Cosa ha significato per lei essere, far parte del team che ha vinto il Davide Di Donatello per gli effetti visivi? Indescrivibile a parole perché è stata una soddisfazione grandissima, soprattutto nel momento in cui è stato annunciato il vincitore, ma come spesso mi piace dire, l'emozione è durante il percorso della realizzazione, non solo l'obiettivo, perché quando fai una cosa che ti appassiona lungo tutto il percorso ogni giorno si hanno nuove sfide, nuovi obiettivi e sei continuamente in competizione con te stesso e quindi c'è un piccolo tassello di emozione giorno dopo giorno che va a sfociare poi in una vittoria o meno, ma quando vedi sul grande schermo qualcosa che funziona di tuo, insomma è impagabile. Grazie Mirko, grazie di cuore, grazie di cuore, grazie a voi. Grazie a voi. Con il loro relativo nome al numero che vedete in sovrimpressione. La foto più cliccata sulla nostra pagina Facebook riceverà una fornitura di cibo, chiaramente per animali, quindi non perdetevi questa prima puntata. E vi ricordiamo anche di scaricare l'applicazione di Rossini TV gratis, gratuitamente su Google Play oppure sull'App Store per essere sempre più vicini a voi anche quando non siete a casa. E allora grazie per averci seguito questa sera, mi raccomando non perdetevi allora l'appuntamento con quella zampa alle 21.15. L'informazione su Rossini TV torna domani mattina alle 7.20 in diretta con la nostra Rassegna Stampa.